ciao oggi prepariamo il vitello tornato e allora vedete questo bel pezzo di carne per arrosto prima lo cuciniamo a parte come un arrosto normale all'olio nel tegame l'olio deve essere sempre caldo mai mettere la carne nell'olio freddo значит мы сегодня готовим vitello tornato con многочисленным просьbам e questo è davvero davvero molto delicato e molto semplice e molto semplice quindi aggiungiamo ora il olio si avete una foglia di alloro ha un buonissimo profumo e tenere l'olio e quindi quando c'è l'olio c'è l'olio comincia a scaldarsi vedete e solo adesso solo ora possiamo mettere il nostro arrosto adesso ci fai vedere che è un po' colorata si faccia quanto ti levarà al freno allora all'inizio i primi minuti è meglio girarla sovente sai la carne va girata la prima minuta noi lo abgiarriamo quindi lo bisogna tutto il tempo перевorcivare semplicemente bisogna stare molto attenti per il primo quarto d'ora girare girare vedete anche girare un po' così un po' così un po' così вот первые минуты Carlo говорит нужно быть осторожным нужно постоянно переворачивать первые 15 минут постоянно i primi minuti stare vicino e controllare dopo può anche dopo si lascia il fuoco basso 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 e poi cuoce piano 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 con il vino poi lo facciamo quando la carne è colorita allora può mettere il sale иногда ma il sale sulla carne cruda quando insoliamo, quando insoliamo, quando insoliamo, insoliamo e poi adesso, perché lascia acqua lascia acqua, suonissuta l'acqua si lascia ancora 10 minuti, così, con il coperchio e oставляo 10 minuti, quando la carne si è colorita poco mettiamo un po' di vino bianco e poi si lascia ancora cuocere con il coperchio adesso lo lascio un pochino aperto, senza il coperchio per qualche minuto, pochi minuti, la salsa si ritira si fa più e poi è cotto in tutto, in tutto, da quando mettete la carne in padella un'ora e mezza ci vogliono prepariamo la salsa del vitello tonnato questo è una marca di tonno buonissima questa veramente buonissima calipo vostra italiana si, 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 si non c'era io in genere, io lo preferisco non sotto olio ma naturale però non c'è non ce l'aveva lo devo prendere così tu nemmeno maschi e carri per città naturale naturali però questa è veramente una qualità ma si vedi il tonno si vede quando ha i pezzi i pezzi grossi, vedi? i pezzi non tutto sbriciolato sbriciolato adesso facciamo un pochino togliamo allora e questi i capperi e i capperi allora bisogna frullare il tonno con i capperi non mi piace 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 buonissima il più possibile che non mi piace non mi piace non mi piace non mi piace e ora adesso si 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 vengono sottili. Ora tagliamo le fettine dell'arrosto, questa prima la togliamo e però bisogna tagliarle molto sottili perché il vitel tournée è così. Se uno ha la macchina, l'affettatrice, quella con cui tagli il prosciutto, sarebbe l'ideale. La fettina è molto sottili, molto sottili, molto sottili, molto sottili. Ecco, le fette un po' aperte perché dopo ci va sopra la maionese, capito? Perché? Perché anche nelle rosti ceria la mettono sopra. E qua Carlo dice, che vettino tonato può dare così. come vediamo come questo bлюдo che si è piaciuto Grazie a tutti.